Sai cosa vuol dire questa espressione in inglese? If the shoe fits Si, shoe è scarpa, ma questo è un idioma e quindi dobbiamo andare oltre al significato letterale Il tema di questo meme a tema Harry Potter è AirVision e dice Why is it when something happens it's always you three? Perché quando succede qualcosa siete sempre voi tre? Troublemakers E il commento dice If the shoe fits, quindi se ti sta la scarpa, poi mancherebbe un pezzettino ma di solito si sta più scontato If the shoe fits, wear it Se la scarpa ti sta, indossala Che vuol dire? Se qualcuno dice qualcosa di negativo su di te o ti fa una critica, ma è vero, devi accettarlo Ti metto qualche esempio in descrizione Esiste un modo per tradurre if the shoe fits, wear it in italiano?